Ciao, sono Macio, benvenuti al mio canale, benvenuti in questo video, una challenge, l'ennesima su assetto corsa, un qualcosa di particolare anche questa volta. Prenderemo la safety car, o meglio, l'un safety car probabilmente, e ci metteremo dietro a Monaco tutte le Formula 1 del 2022, nella speranza di non farci sorpassare da tutti in due giri. Quindi cercheremo di farli da tappo, anche se in realtà dovremo stare attenti a quello che fanno loro, perché sono veramente pazzi come Decavalli. Prima di stare a vedere insieme, vi invito a iscrivervi, mettete un like adesso, sigla video. Speriamo di portare a termine almeno la carrozzeria, visto che la verniciatura me la portano via subito. Speriamo. Non sono molto fiducioso. Ma che bella rossa. La cosa bella è che cercano di passarti veramente da ovunque in questa pista, in un grado di aggressività folle. Volevano a ammazzarci. Qui fa tanta paura. Prendiamo la larga, almeno non ci rendono. E ci hanno preso uguale. Aia. Aia. Che devono cercare di passare come c***o a loro, occidenti, alle loro madri c***o, in fingarde. Stavo girando decentemente. Cioè, no come velocità. Ma è pulizia, quantomeno. Stavo girando decentemente. Stavo girando. E va. E altri dietro? ho messo a pensare a quelli dietro invece a guidare incidenti a me basta sbagliarne uno, ne sbagli 15 a fila devo passarne uguale, va bene no, mi devi passare ma fammi andare giù di marcia, cazzo te ne frega fai fondere il motore più volentieri, ma dammi retta come girano, come stridono le ruote ma per essere io tredicesimo e non avere nessuno dietro in questo punto cosa è successo agli altri? eccoli, eccoli, arrivano oh, oh, che è sta cosa? oh, oh, guardate oh, guardate ce l'ho fatta? ce l'ho fatta a non arrivare ultimo a sto giro? porca miseria oh, il restante carri tiene qualcuno dietro undicesimi, vediamo se è vero perché che ne so andiamo, andiamo, andiamo poi ci sarebbe il replay almeno e i tempi d'arrivo? perché ancora non hanno finito, non ci sono? allora ho lasciato qualcuno dietro davvero sono incredibilmente commosso, sì! Max Verstappen su e ora ci vediamo il replay non ci vediamo il replay Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.